Noi siamo qua per i nostri figli e io vi ringrazio perché voi per essere qua avete pagato di tasca vostra 50, 60, 70 euro per il pullman, per il treno, per la macchina, non come qualche sindacato che va a fare gite premio pagando tutto con i soldi dei lavoratori che poi lascia a casa. Qua c'è gente che si è pagata questa giornata magari rinunciando a un giorno di lavoro.